Più di 112.000 euro raccolti in sette anni di passeggiata per il Burkina Faso, il bellissimo evento che Silvi Solidale organizza dal 2007 ogni 25 aprile. Francesco Comignani per una sera sveste la fascia tricolore del primo cittadino e torna ad essere l'animatore del comitato organizzatore, che con tanti giovani, meno giovani e comunque motivatissimi volontari, unisce la passione per la corsa, non necessariamente competitiva, alla solitarietà e all'educazione nelle scuole. Oltre 96.000 ai contributi erogati, davvero pochissimi costi organizzativi per gli eventi, tra i destinatari l'orfenotrofio San Gregorio di L'Aquila, danneggiato dal terremoto nel 2009, l'associazione Arcotenda, che oggi ha un mezzo idoneo al trasporto di disabili, ma soprattutto i progetti in Burkina Faso dell'associazione Tanti Mani per uno sviluppo solidale. Lunedì 1 settembre, nella serata, alla griglia di casa nostra, Francesco Comignani ha consegnato alla referente locale Romina Di Primio, all'infaticabile responsabile Grazia, e una simpaticissima quanto vivace mini testimonial, un assegno di oltre 9.500 euro, raccolti tra i silvaroli, nonostante le difficoltà della crisi, per finanziare il completamento a Sokurani di Casa Sara. La struttura, inaugurata il 25 settembre 2013, a Spiegato Grazia, ospita 15 bimbe tra i 3 e i 15 anni, orfane e senza familiari. La missione di Tanti Mani per è di non lasciarle sole, farle sentire in una grande famiglia che le accompagnerà negli studi e nella vita. Con i soldi raccolti tra i 1.200 partecipanti alla passeggiata dello scorso 25 aprile, si potrà ora completare la seconda parte del progetto, che prevede una casa solo per i maschietti.